Ciao e benvenuti su Vathlet. Come allenare la parte superiore con focus maggiore su tricipiti e core. Primo esercizio, estensioni tricipiti agli anelli. Pensiamo a mantenere tutto il corpo compatto, quindi addome attivo, retroversione del bacino e pensiamo a flettere solo le braccia. Non compensiamo muovendo le spalle o altro, scendiamo e saliamo tutti compatti. Ok ragazzi, queste erano le estensioni per i tricipiti agli anelli. Esiste una variante più complessa di questo esercizio, sempre per allenare tricipiti e addome. La faremo a terra in plank, quindi partendo dalla posizione di plank iniziale, quindi addome compatto, corpo compatto, distenderemo le braccia dalla posizione di plank iniziale. Se volete capire meglio come svolgere questo esercizio, potete cliccare il link qua sopra. Ok ragazzi, andiamo a vedere il secondo esercizio che è il diamond push-up. A differenza del push-up classico, prevede di tenere le mani unite a forma di diamante. Andiamo a vedere rapidamente la tecnica dell'esercizio. Ci mettiamo con le mani unite a diamante, core e addome sempre compatto, retroversione del bacino, spalle basse, mani sotto al petto e scendo, cercando di scendere e salire il più compatta possibile. Ricordatevi di mantenere i gomiti non appiccicati ai fianchi, ma sempre circa 45 gradi in direzione dei fianchi. Questo esercizio è abbastanza complesso, per chi è agli inizi consiglio di partire a farlo sulle ginocchia. Ok ragazzi, passiamo al terzo ed ultimo esercizio, push-up sulle paralleline. A differenza del push-up normale, il range di movimento sarà più ampio, perché appunto saremo rialzati dalle parallele. Andiamo a vedere velocemente l'esecuzione. Ci posizioniamo con le mani sotto le spalle e le spalle lontane dalle orecchie. Il principio sarà sempre quello del push-up, quindi addome e corpo compatto. Da questa posizione scendiamo. Se avete difficoltà a svolgere il push-up su questo tipo di parallele, potete usare delle parallele un po' più basse, ad esempio dei manubri o delle parallele più basse o delle kettlebell. Ok ragazzi, questa era la routine per allenare la parte superiore del corpo con focus su addome e tricipiti. Provatela e fatemi sapere qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video.